Qual è l'articolo del sole 24 ore apparso sull'inserto PLUS di sabato 21 febbraio? In cui ci sono vari articoli sui corporate, le obbligazioni corporate di aziende, corporate vuol dire di aziende che emettono obbligazioni, che danno alti rendimenti, in questo momento di tassi bassi, così bassi, c'è interesse per queste emissioni in cui danno tassi che vanno dal 5, 6 e oltre per cento. Noi ricordiamo sempre che l'importanza è di analizzare per ogni risparmiatore il proprio profilo di rischio, cioè la capacità di analizzare questo aspetto, cioè quanto rischio posso sopportare o quanto rischio posso, secondo la mia pianificazione che farò con il mio consulente, valutare di poter gestire. Queste obbligazioni che emesse da aziende che danno alti rendimenti, soggiace una parolina, vuol dire alto rendimento, alto rischio. Quindi valutare bene col proprio consulente la capacità di assorbire questo rischio dell'emittente e valutare bene l'emittente. Ad esempio ci sono obbligazioni emesse in RAND sudafricani, il RAND è la valuta sudafricana, oppure obbligazioni emesse in lira turca. Obbligazioni che danno buoni rendimenti ma che già nella loro emissione hanno il fatto, oltre che del rischio paese, Sudafrica o Turchia, c'è da valutare proprio il rischio cambio con questi paesi. Quindi obbligazioni sì, ma in un'alchimia giusta derivante dal suggerimento del consulente a seconda del profilo di rischio del risparmiatore. Altra riflessione riguardano i conti di deposito. Molte banche offrono fino all'anno scorso conti di deposito con rendimenti interessanti. Ultimamente però stanno perdendo un po' di smalto, perché i rendimenti al massimo arrivano a 2,50 all'ordo, ma bloccando i miei soldi presso la banca, quindi vincolandoli presso la banca per 12, 18, 36 mesi. Quindi anche il conto deposito può essere, ma non è una forma di risparmio o una pianificazione dei miei risparmi. È una soluzione temporanea, ma può essere, a seconda dell'esigenza del cliente, anche questa è una soluzione da valutare. Noi come YourSolution siamo a disposizione per una valutazione complessiva del proprio risparmio e del proprio patrimonio, cercando di dare soluzioni al cliente e andando a cercare soluzioni che possono venire da fondi comuni di investimento che investono in questi corporate bond oppure in ETF che permettono di andare a cercare le migliori case che emettono ETF e cogliere le migliori opportunità. Il tutto sotto l'ombrello, sotto la custodia dei nostri box assicurativi, cioè di una pollice assicurativa, al cui interno posso scegliere anche questi rendimenti dati dai corporate bond. Ricordo che i consulenti Family Office di YourSolution sono a vostra disposizione per un incontro, una valutazione, senza impegno, lascio i riferimenti 0372 20405 oppure una mail info-your-solution.it Vi aspettiamo, grazie e alla prossima!